E cinque, sei, sette, otto! Devono nascondere una vagabonda. Una vagabonda! Come fate a nascondere me? Potresti cantare nel nostro corpo. Dovete liberare le vostre emozioni e cantarle al Signore. Canteremo per il Papa. Forse un giorno vedrai in questo la grandezza dell'uomo. Fammi volare, fammi rinascere. La magia, la magia, la magia, la magia.